è raro che l'ironia sia assente anche dagli orrori più grandi a volte si riferisce piuttosto alla relazione che si stabilisce per caso fra certi luoghi e persone uno splendido esempio di quest'ultimo tipo è dato da un evento che si verificò nell'antica città di providence dove intorno alla metà del secolo scorso Edgar Allan Poe soggiornava spesso durante l'infruttuoso corteggiamento della poetessa Sarah Helen Whitman in genere Poe si fermava alla Mansion House in Benefit Street ex Golden Ball Inn che aveva ospitato sotto il suo tetto Washington Jefferson e Lafayette e amava fare una passeggiata lungo la stessa strada verso nord per arrivare alla casa della signora Whitman e al cimitero di St. John che sorge sul fianco della collina per lui quella distesa un po' nascosta di tombe del XVIII secolo aveva un fascino particolare l'ironia sta in questo durante la passeggiata sempre la stessa ripetuta tante volte il grande maestro del macabro del fantastico era costretto a passare davanti a una certa casa sul versante orientale della strada un edificio antiquato male in arnese appollaiato sul fianco della collina che in quel punto sale improvvisamente e circondato da un giardino a cui nessuno badava più da tempo ma che datava dall'epoca in cui quella parte della città era ancora aperta campagna sembra che Poe non ne abbia mai parlato e mai scritto e non ci sono prove che abbia notato la costruzione in modo particolare eppure essa per chi sia in possesso di certe informazioni e guaglia e supera in orrore le più sfrenate fantasie del genio che tante volte ci passò davanti senza vederla e ancora oggi si leva come un singolo beffardo di tutto ciò che è repellente e mostruoso si trattava, anzi si tratta ancora di un edificio fatto apposta per attirare l'attenzione dei curiosi originariamente e almeno in parte era una fattoria costruita nello stile medio del New England settecentesco aveva il tetto appuntito e spiovente due piani più un attico senza camere da letto la porta d'ingresso georgiana e l'interno rivestito in legno secondo il gusto del tempo era rivolta a sud con un abbaino che sovrastava le finestre più basse di fronte al fianco ripido della collina e l'altro che dava sulla strada la costruzione che risale a più di un secolo e mezzo fa aveva visto la nascita e la trasformazione della via che le passava accanto perché Benefit Street, una volta chiamata Back Street era stata concepita inizialmente come un viottolo di campagna che serpeggiava fra le tombe dei primi coloni ed era stata raddrizzata solo quando trasferiti i cadaveri nel North Burial Ground si era potuto tagliare attraverso gli antichi lotte di famiglia senza commettere sacrilegio da principio la parete occidentale della casa svettava per sei o sette metri su un prato scosceso e abbastanza discosto dalla strada ma l'allargamento di Benefit Street al tempo della rivoluzione aveva inglobato gran parte dello spazio intermedio e messo a nudo le fondamenta per questo si era dovuto fabbricare un muro di mattoni che le proteggesse e fornisse al semi interrato molto profondo una porta sulla strada e due finestre sopra il livello del suolo in prossimità dell'arteria dove si svolgeva il traffico quando fu costruito al marzapiede circa un secolo fa il poco spazio intermedio che restava fu eliminato e nelle sue passeggiate Po deve aver visto solo un improvviso muro di mattoni grisi che sorgeva al limitare del marzapiede e che era sormontato a un'altezza di circa tre metri e mezzo dall'antica struttura cicolante della casa vera e propria il sito dell'ex fattoria comprendeva un territorio piuttosto ampio che si estendeva su per la collina fin quasi Wheaton Street lo spazio a sud che dava su Benefit Street era sopraelevato rispetto al marzapiede e formava una terrazza circondata da un alto muro di pietra coperto di musco e interrotto da una ripida gradinata che fra due stretti muriccioli portava al livello superiore qui sorgevano un praticello stento un'altra serie di muretti umidi in mattoni e alcuni giardini abbandonati i cui vagi da fiori in cemento pentolini caduti dai tripodi di fascine intrezzate e simili ordamenti del passato inquadravano la porta rovinata dalle intemperie davanti all'ingresso c'era una vecchia lanterna rotta una serie di colonne ioniche in disfacimento e un consunto frontone triangolare quel che avevo sentito in gioventù a proposito della casa sfuggita era che la gente vi moriva in gran quantità e in modo allarmante per questo mi dissero i primi proprietari si erano trasferiti una ventina d'anni dopo averla costruita è evidente che non faceva bene alla salute e forse la colpa era dell'umidità delle cantine ammorbate dai funghi dell'odore poco piacevole che le permeava degli espifferi dei corridoi e della qualità dell'acqua prelevata dal pozzo o dalla cisterna erano motivi più che sufficienti e in generale la gente credeva che le cause fossero queste solo i diari di mio zio l'appassionato di storia locale dottor Elio Whipple mi rivelarono infine le più oscure fantastiche speculazioni che pesavano sulla casa e che costituivano un motivo ricorrente del folclore locale di queste ipotesi vociferate dalla gente più umile e dai domestici di un tempo nessuna ebbe larga diffusione e quando Providence divenne una metropole moderna con una popolazione che si rinnovava continuamente furono del tutto dimenticate fatto notevole è che la casa non è mai stata considerata dalla parte più ragionevole della comunità come infestata nel senso tradizionale non c'erano racconti di catene trascinate nel buio di misteriose correnti d'aria gelida di luci che si spegnevano all'improvviso o di facce alle finestre il massimo a cui si poteva arrivare era che qualcuno la definisse sfortunata ma questo era tutto ciò che non si poteva dubitare invece era che un gran numero di persone vi perdesse la vita o più esattamente vi avesse perso la vita perché dopo certi strani avvenimenti che risalivano a una sessantina d'anni prima la casa era rimasta deserta e nessuno aveva voluto affittarla le vittime non erano morte all'improvviso o per la stessa causa sembrava che la loro vitalità venisse gradualmente prosciugata in modo che ognuna si era spenta prematuramente per effetto delle debolezze naturali a cui ciascuna era soggetta quelle che non erano decedute mostravano sintomi d'anemia o consunzione a vari stadi e a volte un certo declino delle facoltà mentali tutte cose che deponevano a favore della casa e del suo clima salutare bisogna anche aggiungere che le costruzioni vicine erano completamente prive di quegli spiacevoli effetti questo è ciò che sapevo prima che dietro mia insistenza lo zio Whipple mi mostrasse le sue carte e insieme ci imbarcassimo in una vera e propria indagine quando ero piccolo la casa sfuggita era vuota e circondata da alberi vecchissimi terribili con i rami spogli e i tronchi contorti l'erba era pallida e nel giardino superiore crescevano erbazze malate mentre gli uccelli non cantavano mai noi ragazzi a volte ci avventuravamo nei paraggi e ancora ricordo il mio terrore non solo alla vista della vegetazione straordinaria e ammorbante ma per effetto dell'atmosfera di schiazzante antichità che gravava sulla casa e dell'odore che l'accompagnava uno dei passatempi preferiti quando volevamo procurarci un bello spavento consisteva nel varcare la porta socciusa e spiare all'interno le finestre dai vetri piccolissimi erano quasi tutte rotte e un'aria di indicibile desolazione gravava sui rivestimenti di legno deteriorati sulle imposte interne scardinate la carta da parati che cadeva a brandelli l'intonaco a pezzi le scale a chioccio la man sicure e i pochi mobili ammuffiti che ancora restavano polvere e ragnatelle aggiungevano un tocco sinistro e il ragazzo che avesse trovato il coraggio di salire volontariamente la scala che portava in soffitta veniva considerato un coraggioso la soffitta in sé era uno stanzone di assi illuminato dalle piccole finestre degli abbaini e riempito da un indescrivibile ammasso di bauli sedie e filatoi che dopo innumerevoli anni di giacenza avevano assunto forme grottesche e mostruose ma la parte più terribile della casa non era la soffitta quanto la cantina un sotterraneo umido profondo che per qualche ragione esercitava su di noi un potere repulsivo benché sul lato della strada fosse al di sopra del livello del suolo solo una porticina e un sottile muro di mattoni interrotto da una finestra lo separavano dal marciapiede e dal traffico non sapevamo se esplorarlo affascinati dai suoi misteri o evitarlo per il bene delle nostre anime e della nostra sanità di mente innanzitutto il cattivo odore che permeava la casa era qui più forte che altrove in secondo luogo le screscenze fungose che spuntavano biancastre sul pavimento di terra battuta nei pomeriggi piovosi d'estate non ci piacevano affatto i funghi paradossalmente simili alla vegetazione malata del giardino esterno avevano un aspetto veramente orribile erano una detestabile parodia di specie velenose come le canne indiane e non ne avevamo mai visti di simili marcivano rapidamente e a tratti diventavano fosforescenti sicché i passanti notturni parlavano a volte di fuochi delle streghe che brillavano dietro i vetri rotti delle finestre e di sgradebolissime esalazioni non avemmo mai il coraggio di scendere in cantina di notte nemmeno quando eravamo infiammati dal sacrofuoco di halloween ma durante certe visite diurne specialmente se il cielo era buio e stava per piovere vedemmo noi stessi la fosforescenza a volte ci parve di osservare un fenomeno più strano ma si trattava di una cosa davvero labile al ludo ha una specie di macchia biancastra sul pavimento di terra un contorno incerto e canzante che stava a indicare un deposito di muffa o salnitro e che a volte credevamo di individuare tra i funghi che crescevano nella cucina del seminterrato vicino al grande camino di tanto in tanto fantasticavamo che la macchia avesse una straordinaria somiglianza con una figura umana piegata in due anche se il più delle volte questo non si notava e talora il deposito era del tutto invisibile un pomeriggio di pioggia in cui l'illusione era particolarmente forte e in cui per giunta mi era sembrato di vedere una specie di esalazione giallastra alzarsi dalla macchia vicino al camino parlai a mio zio della faccenda e lo vidi sorridere delle mie strane idee ma era un sorriso in cui c'era una traccia di reminiscenza in seguito appresi che le mie osservazioni corrispondevano ad alcuni particolari riferiti nei racconti soprannaturali dei semplici inoltre si parlava di fumo che uscendo dal camino prendeva la forma di lupo o delle strane forme assunte da certe radici quando riuscivano a insinuarsi attraverso le pietre sconnesse delle fondamenta all'interno della cantina solo quando divenne adulto mio zio mi permise di leggere gli appunti e le informazioni che aveva raccolto sulla casa sfuggita il dottor Whipple era un buon medico conservatore della vecchia scuola e nonostante il suo interesse per la storia di quella particolare abitazione non intendeva incoraggiare i pensieri di un giovane verso l'insolito il suo punto di vista che si riduceva a considerare la casa sfuggita come un edificio costruito in un luogo poco salubre non aveva nulla a che fare con il soprannaturale ma egli temeva che il fascino grottesco delle leggende lo stesso che aveva acceso il suo interesse in un ragazzo avrebbe scatenato inevitabilmente una ridda di assurde associazioni mentali il dottore era a scapolo un gentiluomo vecchia maniera con i capelli bianchi e le guance ben rasate noto conoscitore di storia locale che più volte aveva spezzato una lancia in favore di controversi custodi della tradizione come Sidney Ryder e Thomas Bucknell viveva con un domestico in una casa georgiana col battacchio sulla porta e gradini affiancati da una ringhiera di ferro che pareva reddersi in un precario equilibrio sull'erte di Northcourt Street fra il vecchio tribunale di mattoni e la casa coloniale dove suo nonno un cugino del celebre capitano Whipple colui che aveva incendiato lo schuner di sua maestà il Ghespie nel 1772 aveva votato nella seduta del 4 maggio 1776 in favore dell'indipendenza della colonia del Rhode Island nell'umida biblioteca dove studiava un ambiente dal soffitto basso e i pannelli bianchi leggermente ammuffiti le finestre dai piccoli vetri color vino e la parte superiore del camino pesantemente lavorata erano esposti i ricordi e le testimonianze dell'antica famiglia a cui apparteneva fra cui numerose e sgradevoli allusioni alla casa sfuggita in Benefit Street la sfortunata abitazione non era molto lontana perché Benefit passa diagonalmente sopra il vecchio tribunale lungo la ripida collina che fu il centro dei primi insediamenti quando finalmente le mie insistenze e il passare degli anni persuasero mio zio a consentirmi di leggere le informazioni che aveva raccolto mi trovai di fronte a un resoconto singolare per lunga e tediosa che fosse con una quantità di particolari genealogici e statistici la cronaca adombrava un filo ininterrotto d'orrore e di malvagità costante preternaturale che mi impressionarono più di quanto avessero impressionato il buon dottore avvenimenti separati formavano un quadro unico e misterioso particolari che sembravano irrilevanti suggerivano orribili possibilità nacque in me una nuova e bruciante curiosità a paragone della quale quella che provavo da ragazzo era infantile e poco sviluppata la prima rivelazione ci spinse a intraprendere un'ampia ricerca a cui seguì la terrificante esplorazione che si sarebbe rivelata disastrosa non solo per me ma anche per il mio parente in ultima analisi mio zio insistè per unirsi alle indagini che avevo incominciato da solo e dopo una notte trascorsa in quella casa non fece più ritorno sono stato privato dell'anima gentile i cui lunghi anni furono riempiti solo di onore virtù buon gusto e cultura in suo onore ho eretto una tomba di marmo nel cimitero di saint john quello amato da poe in mezzo al bosco di salici giganti sulla collina lassù tombe e lapidi stanno ammucchiate in pace fra la mole bianca della chiesa e le case e i muriccioli di benefit street la storia della casa sfuggita che si apriva con una raffica di date non rivelava nulla di sinistro né per quanto riguarda il periodo della costruzione né la famiglia che l'aveva fatta erigere pure fin dal principio era presente un chedi calamitoso che ben presto raggiungeva livelli considerevoli le note di mio zio compilate con cura cominciavano con la costruzione vera e propria realizzata nel 1763 e seguivano l'argomento con una grande dovizia di particolari i primi abitanti della casa erano stati William Harris e sua moglie Robbie Dexter con i figli Elkanah nato nel 1765 Abigail nel 1757 William Junior nel 1759 e Ruth nel 1761 Harris era un prospero navigatore che commerzava con le Indie occidentali e in particolare con la compagnia di Obadia Brown e i suoi nipoti dopo la morte di Brown nel 1761 la nuova società di Nicholas Brown e Co lo aveva nominato comandante del brigantino Prudence stazza a 120 tonnellate e costruito a Providence permettendogli in questo modo di costruire la casa che aveva sognato fin dall'epoca del matrimonio il luogo scelto da Harris corrispondeva a un tratto della nuova residenziale back street che correva lungo il fianco della collina sulla follata cheap side c'era tutto quello che si poteva desiderare e la casa aveva reso giustizia al sito quanto di meglio si potesse ottenere con i mezzi moderati il capitano si era affrettato a trasferirvi prima della nascita del quinto figlio ormai in arrivo quest'ultimo maschietto era venuto alla luce in dicembre già morto ed allora per un secolo e mezzo nessun bambino sarebbe nato vivo nella casa sfuggita il successivo aprile i figli si ammalarono e Abigail e Ruth morirono prima della fine del mese il dottor job ives diagnosticò febbre infantile anche se altri affermarono che si era trattato di semplice deperimento e debolezza in ogni caso sembrava un male contagioso perché Hannah Bowen la domestica ne morì in giugno Ellie Liddison l'altro servitore lamentava una costante debolezza e sarebbe tornato nella fattoria di suo padre a Raybott se non fosse per l'improvviso amore nei confronti di Meritabel Pierce la donna assunta per sostituire Anna Ellie morì l'anno successivo un anno veramente in fausto se si tien conto che portò nella tomba lo stesso William Harris indebolito dal clima della Martinica dove il suo lavoro lo aveva costretto a passare lunghi periodi nel decennio precedente la vedova Robbie Harris non si riprese dalla perdita del marito e la scomparsa del primogenito Elkanah due anni dopo diede il colpo finale alla sua ragione nel 1768 fu vittima di una leggera forma di follia e venne confinata nella parte superiore della casa la sorella maggiore certa Merci Dexter nubile venne a prendersi cura della famiglia Costey era una donna semplice robusta e forte ma dopo aver messo piede nella casa la sua salute peggiorò visibilmente era molto attaccata alla povera sorella e nutriva un affetto speciale per il nipote William l'unico sopravvissuto questi che da bambino era nato robusto e sano si era trasformato in un ragazzo magro e malaticcio nello stesso anno morì la cameriera Maytabel e la sua collega Preservet Smith si licenziò senza durre spiegazioni ragionevoli tutto ciò che si ricavò da lei furono racconti fantastici e una lagnanza sull'odore della casa per un certo tempo Mercy non riuscì a trovare altro personale nell'arco di cinque anni erano morte in casa sette persone e c'era stato un caso di follia e la cosa aveva innescato le chiacchiere del popolino che in seguito avrebbero preso una piega così bizzarra alla lunga tuttavia la signora Dexter riuscì a trovare nuovi servitori fuori città Anne White una domestica scontrosa che veniva da quella parte del nord Kingston che oggi forma il comune di Exeter e un capace uomo di Boston che rispondeva al nome di Zenas Law Juan White che per prima dia di forma definita alle chiacchiere sinistre del popolino Mercy avrebbe dovuto astenersi dall'assumere una donna della regione di Hunseneck Hill perché quel remoto angolo di foresta era allora come adesso il covo delle peggiori superstizioni non più tardi del 1892 la comunità di Exeter ha provveduto all'esumazione di un cadavere per bruciarne il cuore ritualmente e tutto per evitare che continuassero certe pretese visite nocive alla salute e alla quiete pubblica ci si può immaginare le idee della stessa regione nel 1768 la lingua di Anne era perniciosa e dopo cinque mesi Mercy la licenziò sostituendola con una fedele e amabile donna che veniva da Newport Maria Robbins nel frattempo la povera Robby Harris semifolle cominciò a parlare di orrendi sogni e fantasticherie a volte le sue urla diventavano insopportabili e per lunghi periodi gridava cose talmente atroci che il figlio dovette trasferirsi dal cugino Peleg Harris in Presbyterian Lane vicino al nuovo edificio dell'università in seguito a questo provvedimento il ragazzo sembrò migliorare e se Mercy fosse stata lungimirante quanto era benevola lo avrebbe lasciato lì per sempre la tradizione sembra reticente sul contenuto degli sfoghi della signora Harris o meglio presenta resoconti così stravaganti che si annullano a vicenda nella loro assurdità certo è pazzesco sentire che una donna alla quale erano stati insegnati appena i rudimenti del francese a volte urlasse per due ore in forma particolarmente volgare e idiomatica di quella lingua o che la stessa persona sola e sorvegliata lamentasse estericamente che qualcosa la fissava e la mordeva ripetutamente nel 1772 il domestico Zenas morì e quando la signora Harris venne a saperlo scoppiò a ridere con un piacere che non le si addiceva assolutamente l'anno seguente morì ella stessa e fu sepolta nel North Burial Ground vicino a suo marito allo scoppio delle ostilità con la Gran Bretagna nel 1775 William Harris nonostante avesse appena 16 anni e fosse di costituzione macilenta riuscì ad arruolarsi nell'armata d'osservazione sotto il generale Green e da quel momento migliorò notevolmente sia in salute sia in prestigio nel 1780 in qualità di capitano del contingente del Rhode Island del New Jersey sotto il colonnello Angel conobbe e sposò Feb Hetfield di Elizabeth Town che portò a Providence dopo il suo onorevole congedo l'anno seguente il ritorno del giovane soldato non fu tutto rosa e fiori la casa è vero era ancora in buone condizioni e la strada era stata allargata e ribattezzata Benefit Street ma la forza e robusta Mercy Dexter aveva subito uno spaventoso declino sicché era ridotta a una figura curva e patetica dalla voce rauca e dallo straordinario pallore le stesse caratteristiche mostrate dall'unica cameriera rimasta Maria nell'autunno del 1782 Herb Harris partorì una bambina nata morta e il 15 maggio seguente Mercy Dexter dipartì da una vita che era stata austera utile e virtuosa William Harris finalmente convinto del carattere nocivo della casa prese la decisione di abbandonarla e chiuderla per sempre trovato un alloggio temporaneo per sé e per la moglie nel Golden Ball Inn che aveva appena aperto avviò i lavori di una casa migliore in Westminster Street nella parte della città che andava sviluppandosi oltre il Great Bridge lì nel 1785 nacque il suo figlio Duti e lì la famiglia abitò finché le esigenze del commercio li portarono sull'altra sponda del fiume e sulla collina dove surgeva Angel Street nel nuovo quartiere residenziale dell'East Side nella stessa zona ma nel 1876 il defunto Archer Harris avrebbe costruito una sontuosa quanto volgare abitazione col tetto in stile francese William e Febe morirono entrambi nell'epidemia di febbre gialla del 1797 ma Duti fu affidato al cugino Ratbon Harris figlio di Peleg Ratbon era un uomo pratico e affittò la casa di Benefit Street contro le volontà di William che avrebbe voluto mantenerla deserta per Ratbon era un obbligo verso il giovane pupillo sfruttarne al massimo i possedimenti e le morti e le malattie che provocavano tanti cambiamenti di inquilini non lo riguardavano nel frattempo la casa veniva guardata dalla gente con sempre maggiore avversione è probabile che Ratbon Harris provò solo un senso di frustrazione quando nel 1804 il consiglio comunale gli ordinò di bruciare presso la casa solfo catrame e canfora e di farla impregnare dei relativi fumi ben quattro persone infatti vi erano morte in modo da sollevare chiacchiere anche se con tutta probabilità si trattava degli ultimi strascichi dell'epidemia di febbre la gente diceva che la casa odorasse letteralmente di malattia Dutti non si mostrò attaccato alla sua proprietà ma diventò un soldato e servì con onore sulla vigilante sotto il comandante Cahun nella guerra del 1812 ne tornò illeso si sposò nel 1814 e diventò padre nella memorabile notte del 23 settembre 1815 quando un gran fortunale sollevò le onde della baia su mezza città e spinse un naviglio fino a Westminster Street tanto che i suoi alberi sfiorarono le finestre degli Harris sembrò la simbolica affermazione che il movonato Welcom era figlio di un marinaio Welcom non sopravvisse a suo padre ma perì gloriosamente a Fredericksburg nel 1862 per lui e per suo figlio Archer la casa sfuggita non era altro che una spina nel fianco un posto che nessuno era disposto ad affittare forse era colpa dell'umidità e dell'odore malsano di vecchiezza dopo una serie di morti verificatesi nel 1861 la casa non fu più abitata anche se l'eccitazione della guerra relegò nell'ombra quell'ultimo episodio finché non gli parlai delle mie esperienze Carrington Harris ultimo discendente in linea maschile sapeva solo che la sua proprietà era un pittoresco centro di leggende aveva pensato di demolirla e costruire nello stesso luogo un condominio ma dopo quello che gli raccontai decise di abbandonare il progetto la lasciò dov'era fece installare tubature moderne e l'affittò non ha mai avuto difficoltà a trovare inquilini perché l'orrore è ormai scomparso si può immaginare come gli annali degli Harris mi avessero impressionato nelle loro crone che correva la minaccia di qualcosa di malvagio che la natura non poteva spiegare una calamità legata alla casa piuttosto che alla famiglia questa impressione era confermata dalle notizie miscellanee che mio zio aveva raccolto con minore sistematicità leggende ricavate dalle dicerie dei servitori ritaglie di giornali copie di certificati di morte ottenute da colleghi medici e materiale del genere non posso dare qui il frutto integrale delle sue ricerche perché lo zio era un instancabile appassionato del passato e in particolare di ciò che riguardava la casa sfuggita ma posso riferire ai punti salienti e ricorrenti confermati da resoconti di varia provenienza per esempio le dicerie dei domestici erano unanimi per quel che riguardava la cantina era il centro dell'influenza malefica con i suoi funghi e i cattivi odori alcuni servitori in particolare un white si rifiutavano di usare la cucina nel semi interrato e c'erano almeno tre distinte tradizioni per quel che riguardava le forme umane o quasi umane assunte dalle radici degli alberi e dalla macchia biancastra nelle vicinanze questi resoconti mi interessavano particolarmente perché da ragazzo ne avevo fatto esperienza diretta ma avevo l'impressione che il senso autentico dell'enigma fosse oscurato in tutti i casi da inevitabili aggiunte tratte dalle volgari credenze sui fantasmi Anne White la superstiziosa di Exeter aveva diffuso il racconto più stravagante e più particolarezzato sosteneva infatti che sotto la casa fosse sepolto un vampiro uno di quei morti che mantengono intatta la forma corporea e si nutrono del sangue e dell'alito dei vivi e le cui orrende schiere si diffondono sulla terra durante la notte per cacciare per distruggere un vampiro raccontavano le nonne si doveva esumarlo e bruciarne il cuore o almeno trafiggerlo con un paletto accuminato e la caparbia insistenza di Anne perché venisse effettuata una ricerca in cantina era stato uno dei motivi che avevano condotto al suo licenziamento i racconti che narrava avevano comunque un vasto uditorio ed erano accettati con facilità perché la casa sorgeva su un terreno che una volta era stato usato per le sepolture a me interessava meno questa circostanza dell'altra per cui le storie di Anne concordavano con i particolari di testimonianze molto diverse ad esempio l'affermazione della precedente cameriera Preservet Smith che non aveva mai sentito parlare di Anne secondo cui qualcosa le toglieva il fiato di notte o i certificati di morte delle vittime di febbre del 1804 preparati dal dottor Charles Hopkins nei quali era detto che i quattro defunti mostravano un'incomprensibile anemia o ancora gli oscuri vaneggiamenti della povera Robbie Harris in cui lamentava i morsi di un'entità solo in parte visibile allo sguardo vitreo e i denti aguzzi per quanto libero da superstizioni infondate rimasi scosso da questo insieme di particolari e il mio stupore aumentò quando lessi i due ritagli di giornale molto lontani nel tempo e relativi alle morti nella casa sfuggita uno del Providence Casetta and Country Journal del 12 aprile 1815 e l'altro del Daily Transcript and Chronicle del 27 ottobre 1845 entrambi riferivano un particolare spaventoso il cui ripetersi aveva dello straordinario a quanto pare in entrambi i casi il moribondo nel 1815 una dolce anziana signora di nome Stafford e nel 1845 un insegnante di mezza età che si chiamava Elasair Durfee avevano subito un orribile metamorfosi lo sguardo si era fatto vitreo e avevano tentato di mordere al collo il medico presente ancor più straordinario il caso finale quello dopo il quale nessuno aveva voluto più affittare la casa una serie di morti per anemia precedute da follia progressiva in cui il paziente aveva attentato alla vita dei suoi parenti incidendone abilmente il collo o i polsi tutto questo avveniva nel 1860 o 1861 quando mio zio aveva appena cominciato la pratica medica e prima di partire per il fronte ne aveva saputo abbastanza dai colleghi più anziani la cosa veramente inesplicabile era il modo in cui le vittime persone ignoranti perché ormai la casa era evitata dalla maggior parte della gente e non poteva essere affittata ad altri prendevano a bestemmiare in francese lingua che certo non avevano studiato veniva in mente la povera robbie harris di quasi un secolo prima e mio zio ne fu tanto colpito che cominciò a raccogliere dati sul passato della casa nel frattempo appena tornato dalla guerra aveva ascoltato i risuconti di prima mano dei dottori Chase e Whitmars mi resi conto che mio zio aveva riflettuto a lungo sul problema e che era lieto del mio interesse interesse cioè di una persona affezionata e senza pregiudizi che gli permetteva di discutere un argomento del quale altri avrebbero riso la sua fantasia non si era spinta lontano quanto la mia ma sentiva che il luogo era ricco di potenzialità speculative e degno di ispirare chiunque fosse interessato al macabro e al grottesco da parte mia ero disposto ad affrontare la questione con la massima serietà e cominciai non solo a studiare le prove ma ad accumularne altre secondo le mie possibilità parlai molte volte col vecchio Archer Harris proprietario della casa prima della sua scomparsa nel 1916 e da lui e dalla sorella nubile che gli sopravvisse Alice ottenne conferma di tutte le informazioni che mio zio aveva raccolto sulla famiglia quando chiesi loro quale legame potesse esistere fra la Francia e la casa sfuggita confessarono tuttavia di saperne poco quanto me Archer era completamente all'oscuro e tutto quello che la signorina Harris fu in grado di dire è che suo nonno duty Harris aveva sentito una vecchia diceria che forse avrebbe potuto gettare un po' di luce sulla questione il vecchio marinaio che era sopravvissuto due anni alla morte in battaglia di suo figlio Welcom non aveva esperienza diretta della leggenda ma ricordava che la sua vecchia balia Maria Robbins sapeva qualcosa che avrebbe attribuito un arcano significato ai deliri in francesi di Robby Harris li aveva uditi molte volte negli ultimi giorni della sventurata Maria era stata nella casa sfuggita dal 1769 fino alla partenza della famiglia nel 1783 e aveva assistito alla morte di Mercy Dexter una volta aveva riferito al piccolo duty una strana circostanza che si era verificata poco prima che Mercy ispirasse ma il ragazzo aveva dimenticato tutto a parte il fatto che si trattava di una cosa bizzarra la nipote ricordava ancora meno perché tanto lei che suo fratello non erano interessati alla casa quanto lo era invece Carrington un figlio di Archer e attuale proprietario con cui ebbi modo di parlare dopo l'esperienza che feci tra le sue mura dopo aver ottenuto tutte le informazioni che potevo dalla famiglia Harris rivolsi la mia attenzione alle vecchie croniche della città con uno zelo superiore a quello di mio zio ed è a quanto dire quella che desideravo era una storia completa della località dall'epoca dei primi insediamenti 1636 o anche prima ammesso che si potessero ottenere informazioni dalle leggende degli indiani di Narragalset tanto per cominciare scoprì che il sito aveva fatto parte di un lotto lungo e stretto assegnato in origine a John Trocmorton e che era uno dei molti lotti simili a striscia che cominciavano in Town Street lungo il fiume e correvano per la collina lungo un asse che corrispondeva grosso modo all'attuale Hope Street il lotto di Trocmorton era stato diviso in seguito in molti altri e io cercai di scoprire tutto quello che potevo sul segmento attraverso cui sarebbe passata la futura Back Street poi Benefit Street secondo certe voci il punto che mi interessava era stato il cimitero di Trocmorton ma esaminando più attentamente i documenti scoprì che le tombe erano state trasferite nel North Burial Ground sulle Petucat West Road in data molto antica fu a quel punto che per caso mi imbattei in un documento che risvegliò tutto il mio interesse dico per caso perché non si trovava nei carteggi principali e avrebbe potuto facilmente passare inosservato ma era la chiave ad alcuni punti più bizzarri della vicenda si trattava dell'accessione temporanea stipulata nel 1697 di un piccolo tratto di terreno a un certo Etienne Roulet e a sua moglie finalmente appariva l'elemento francese e con esso qualcosa di più orribile che il nome risvegliò nella mia memoria satura di letture fantastiche ed eterogenee studiai con fervore la planimetria del posto prima che fosse attraversato da Beck Street e che la strada venisse raddrizzata fra il 1747 e il 1758 scoprì quello che mi ero in parte aspettato e cioè che dove oggi sorgeva la casa sfuggita i Roulet avevano stabilito il loro cimitero dietro un cocktail a un piano con soffitta e che non esistevano documenti relativi a uno spostamento delle tombe l'atto terminava con una gran confusione e fui costetto a saccheggiare sia la Rhode Island Historical Society sia la Shapley Library prima di trovare la porta che il nome di Etienne Roulet fosse in grado di aprire finalmente scoprì qualcosa di così sinistro e fantastico che decisi di esaminare immediatamente i sotterranei della casa sfuggita animato dal nuovo zelo ed eccitazione a quanto pareva i Roulet erano arrivati nel 1696 da East Greenwich giù per la riva occidentale della baia di Narragansett erano hugonotti di Caud e avevano incontrato molta opposizione prima che il consiglio di Providence permettesse loro di stabilirsi in città perseguitati da una certa impopolarità anche a East Greenwich dove si erano trasferiti nel 1686 dopo la revoca dell'editto di Nantes erano diventati oggetto di pregiudizi ben più che nazionalistici o razziali e che andavano al di là delle dispute per le assegnazioni terriere fra francesi e inglesi in quell'epoca all'ordine del giorno e contro cui nemmeno il governatore Andros poteva nulla alla fine tuttavia l'ardente protestantesimo della coppia troppo ardente secondo alcuni e il loro evidente avvilimento quando si erano visti le spinti dal villaggio e costretti a discendere la baia avevano commosso i padri della città di Providence ed era stato loro garantito un rifugio sicuro così lo scuro Etienne Roulet meno bravo a coltivare i campi che a leggere strani libri e a disegnare bizzarri diagrammi era diventato un impiegato del porto nel magazzino che frenteggiava il molo di Pardon Tillengast all'estremità meridionale di Town Street molto più tardi forse quarant'anni dopo la morte del vecchio Roulet c'era stato un violento incidente di qualche genere e nessuno aveva più sentito parlare della famiglia a quanto pareva per più di un secolo i Roulet erano stati ricordati vividamente e in relazione a strani incidenti di cui nel tranquillo porto del New England si era parlato parecchio il figlio di Etienne Paul era un tipo poco raccomandabile e stava forse all'origine dell'episodio che aveva cancellato la famiglia perché aveva una condotta veramente imprevedibile la gente si domandava molte cose sul suo conto e benché a Providence non attecchisse il panico della stregoneria caratteristico dei vicini centri puritani le vecchie della città dicevano liberamente che questo Paul non pregava né al momento buono né al giusto indirizzo e ciò senza dubbio aveva dato origine alla leggenda conosciuta dalla vecchia Maria Robbins quale relazione avesse tutto questo con i deliri in francese di Robbie Harris e di altri abitanti della casa sfuggita solo l'immaginazione e future scoperte avrebbero potuto stabilire mi chiesi quanti di coloro che conoscevano le leggende della casa avessero saputo del nuovo e sinistro tassello che le mie letture mi avevano permesso di scoprire in particolare in particolare per quanto riguardava l'uomo conosciuto come Jacques Roulet de Code la cui storia costituiva uno dei punti più oscuri negli annali dell'orrore nel 1598 costui era stato condannato per stregoneria ma salvato dal rogo per intervento del Parlamento di Parigi e rinchiuso in manicomio lo avevano trovato in un bosco coperto di sangue e brandelli di carne poco dopo l'uccisione lo smembramento di un ragazzo da parte di una coppia di lupi una delle due belve era stata vista allontanarsi indisturbata era un tipico racconto da comari con un significato più che sinistro se si considera il tutto ma decisi che i pettegolezzi di Providence non ne avevano mai tratto alimento se la gente avesse saputo dell'episodio la coincidenza dei nomi avrebbe indotto la comunità a intraprendere qualche drastica azione tuttavia non poteva darsi che una debole ecco fosse arrivata alle orecchie dei miei concittadini e che avesse scatenato l'episodio di violenza culminato nella scomparsa dei roulet visitai la casa maledetta più volte studiando la vegetazione malata del giardino esaminando le pareti e sondando ogni centimetro del pavimento in cantina finalmente con il permesso di Carrington Harris feci fare una chiave per aprire la porta che dal semi interrato immetteva in Benefit Street preferivo avere un accesso più diretto al mondo esterno che non le scale umide l'ingresso a pian terreno e la porta georgiana nel sotterraneo dove si addensavano i sospetti più orribili indagai per lunghi pomeriggi mentre il sole filtrava dalle finestre coperte di ragnatele che davano sulla strada sapere che una porta aperta mi separava di pochi passi dal mondo mi dava un senso di sicurezza niente di nuovo premiavo i miei sforzi dappertutto era solo umidità un vago sentore di odori disgustosi e di macchie biancastre sul pavimento immagino che molti passanti debbono avermi guardato con curiosità dai vetri rotti delle finestre finalmente sul suggerimento di mio zio decisi di andare nella casa sfuggita anche dopo il tramonto e una sera di temporale intorno alla mezzanotte proiettai il fascio della torcia elettrica sul pavimento ammuffito e sulle forme grottesche dei funghi fosforescenti quella sera di oggi mi aveva fatto trasalire sprigionato dalla chiazza antropomorfa formata dall'umidità vicino al camino era un vapore sottile malsano quasi luminoso che tremava nell'aria umida e pareva assumere una forma vaga ma non per questo meno inquietante e che poi degenerava in una sorta di nebuloso decadimento per scomparire in una scia diffetore superi il camino era veramente orribile e per me che conoscevo il posto lo era anche di più resistei alla tentazione di fuggire e rovidi di leguarsi ma mentre guardavo ebbi l'impressione che esso a sua volta mi guardasse avidamente con occhi più immaginari che visibili quando riferì l'episodio a mio zio ne fu molto colpito e dopo un'ora di riflessione arrivò a una drastica conclusione valutando l'importanza della questione e il significato del nostro lavoro decise che entrambi studiassimo e se possibile distruggessimo l'orrore che si annidava nella casa a questo scopo avremmo vegliato insieme per una o più notti nella cantina ammorbata dall'umidità e dai funghi il 25 giugno 1919 dopo una doverosa comunicazione a Carrington Harris in cui tuttavia non specificavamo ciò che pensavamo di trovare mio zio ed io portammo nella casa sfuggita due sedie da campo un letto pieghevole e certe pesanti apparecchiature scientifiche durante il giorno sistemammo questo materiale in cantina schermando le finestre con carta e decidendo di tornare quella sera per la nostra prima veglia avevamo chiuso a chiave la porta che dal seme interrato portava alla strada ed eravamo disposti a lasciare le nostre attrezzature che avevamo ottenuto in via riservata e a caro prezzo per quanti giorni fosse necessario avevamo intenzione di rimanere svegli fino a tardi e poi di continuare con turni di due ore il primo dei quali spettava a me il compagno nel frattempo avrebbe potuto riposare sul lettino mio zio prese con naturalezza le redini della situazione procurando le apparecchiature che ci servivano nei laboratori della Brown University e presso l'arsenale di Cranston Street dopo di che assunse istintivamente il comando dell'impresa è la miglior testimonianza della vitalità e della resistenza di un uomo che aveva ormai 81 anni Eliud Whipple aveva vissuto nel rispetto delle regole igieniche che predicava come medico e se non fosse per quello che accadde nella casa sfuggita sarebbe ancora oggi fra noi e in pieno vigore solo due persone sospettano la verità su quel che avvenne Carrington Harris e io ad Harris dovevo dire qualcosa perché era il proprietario della casa ed era giusto che sapesse da cosa l'avevamo liberata inoltre aveva parlato con noi prima che ci dedicassimo alla nostra impresa e io avevo la sensazione che dopo la scomparsa dello zio Whipple il signor Harris mi avrebbe capito e aiutato nel fornire le necessarie spiegazioni pubbliche quando gli dissi ciò che era successo impallidì ma accettò di spalleggiarmi e stabilì che finalmente la casa poteva essere affittata senza preoccupazioni affermare che non eravamo nervosi in quella piovosa notte di veglia sarebbe una ridicola e grossolana esagerazione come ho detto non avevamo superstizioni infantili ma lo studio della scienza e le nostre riflessioni ci avevano insegnato che l'universo tridimensionale a noi noto costituisce soltanto una piccolissima frazione del cosmo della materia ed energia in questo senso le prove fornite da numerose e accettabili fonti dimostravano l'esistenza di forze e poteri che da un punto di vista umano si potevano definire senz'altro malvagie dire che credessimo alla lettera in vampiri e lupi bannari sarebbe d'altra parte un'affermazione inesatta e grossolana l'approssimazione migliore è questa non avevamo intenzione di negare la possibilità di straordinarie e ignote alterazioni nella materia e nell'energia vitale cioè di fenomeni infrequenti nello spazio tridimensionale a causa delle sue stesse limitazioni ma possibili in sfere d'esistenza abbastanza vicine alla nostra da dare luogo a occasionali manifestazioni che per noi per mancanza di un punto d'osservazione vantaggioso forse non capiremo mai in breve mio zio ed io sapevamo che una serie di fatti incontrovertibili indicava la presenza nella casa sfuggita di un'influenza costante nel tempo e che risaliva all'uno o all'altro dei due sospetti coloni francesi di due secoli prima influenza ancora attiva in virtù di rare e ignote leggi del movimento atomico ed elettronico che la famiglia Roulet avesse posseduto una normale familiarità con sfere d'esistenza ulteriori mondi oscuri di cui la gente normale aveva solo terrore e repulsione sembrava approvato dalla storia ma questo non significava forse che le violenze del 1730 avevano messo in moto nel cervello di uno o più di loro in particolare del sinistro Paul Roulet un meccanismo un modello cinetico mostruoso che era sopravvissuto all'inciaggio della folla e all'assassinio dei corpi fisici per continuare a funzionare nello spazio multidimensionale secondo le stesse direttrici di odio assoluto per la comunità non era assurdo immaginare un'evenienza del genere alla luce della nuova scienza che postulava la teoria della relatività e dell'interazione atomica era possibile concepire un nucleo sconosciuto di materia o di energia in forme o dotato di forma mantenuto in vita da impercettibili e lievissime sottrazioni della forza vitale altrui o anche di tessuti fluidi e sostanze più concrete in cui fosse in grado di penetrare e con la cui struttura potesse se necessario fondersi un'entità del genere poteva essere attivamente ostile o essere indotta ad agire come agiva da ciechi motivi di sopravvivenza ma in ogni caso sul nostro piano di realtà sarebbe stata un'intrusa un'anomalia mostruosa che andava estirpata e questo era il dovere di ogni uomo che non fosse nemico della vita del benessere e della sanità del mondo ciò che preoccupava lo zio Whipple e me era l'ignoranza dell'aspetto che la creatura avrebbe assunto nessuna persona sana di mente l'aveva mai vista e poche ne avevano percepito la vicinanza poteva trattarsi di pura energia una forma eterea ed estranea al regno della materia o forse di un essere almeno in parte materiale di una sconosciuta ed equivoca massa di plasma in grado di passare a volontà da nebulose approssimazioni dello stato solido a quello liquido e gassoso o a qualcosa di ancora diverso la chiazza di forma antropomorfa sul pavimento l'aspetto del vapore giallastro e la curva assunta dalle radici degli alberi in alcuni dei vecchi racconti sembravano indicare una parentela almeno remota con la figura umana ma quanto rappresentativa o permanente quella similarità potesse essere nessuno poteva dirlo con certezza avevamo pensato di combatterla con due armi un grande tubo di crux adatto a esigenze speciali con potenti batterie di scorta e schermi riflettori nel caso fosse suscettibile soltanto alle radiazioni e due lanciafiamme militari del tipo usato durante la guerra mondiale nel caso fosse almeno in parte materiale e suscettibile ai mezzi di distruzione meccanici come i superstiziosi cittadini di Exeter eravamo pronti a bruciare il cuore della cosa se poi esisteva un cuore disponemmo le nostre armi in cantina sistemandole in punti strategici rispetto al letto e alle sedie ma anche al punto davanti al camino dove la muffa aveva preso strane forme tra parentesi quando piazzammo i nostri macchinari la chiazza era appena visibile e lo stesso vale per la sera in cui tornammo a fare la veglia per un attimo dubitai di aver visto la sagoma delineata con tanta precisione qualche tempo prima ma poi ripensai alle leggende la veglia cominciò alle dieci di sera e ad un certo punto ci sembrò che non avrebbe avuto nessun esito dai lampioni esterni filtrava una debole luce e dai funghi che prosperavano in cantina una fosforescenza da cui avremmo fatto volentieri a meno in quell'atmosfera vedevamo la pietra gocciolante delle pareti da cui era svanita ogni traccia d'imbiancatura il pavimento di terra battuta intriso d'umidità e puzzolente dove prosperavano solo i bruttissimi funghi i resti marcescenti di quelli che erano stati sgabelli sedie tavoli e altri mobili informi le assi pesanti e le travature del pian terreno sopra di noi la porta decrepita che conduceva dispense e depositi sotto altre parti della casa la scala di pietra in rovina con il corrimano di legno consunto e la bocca cavernosa del camino di mattoni anneriti dove pochi frammenti arrugginiti suggerivano la presenza in passato di ganci alari spiedi carrucole e il portello del forno olandese tutto questo è il nostro austero lettino le sedie da campo e le ingombranti macchine di morte che avevamo portato come nelle mie precedenti esplorazioni non avevamo chiuso a chiave la porta che dava sulla strada e quindi avevamo pronta una via di scampo nel caso di manifestazioni a cui non fossimo in grado di far fronte pensavamo che la nostra prolungata presenza notturna avrebbe attirato la presenza malevola e che essendo preparati avremmo potuto liquidarla con uno o l'altro dei mezzi che avevamo a disposizione non appena l'avessimo riconosciuta e osservata a sufficienza non avevamo la minima idea invece del tempo che sarebbe stato necessario per evocarla e combatterla riflettemmo che la nostra posizione era tutt'altro che sicura perché nessuno sapeva di quanta forza disponesse la creatura ma ci sembrava che il gioco valesse la candela e non esitammo ad affrontare l'esperienza da soli sapevamo che la ricerca di aiuto all'esterno ci avrebbe esposti al ridicolo e forse avrebbe compromesso il nostro scopo questa era la nostra situazione mentre parlavamo nel cuore della notte poi la tendenza di mio zio ad appisolarsi mi spinse a ricordargli che era tempo di concedersi le due ore di sonno rimasto solo nelle ore piccole mi senti pian piano gelare dalla paura ho detto solo perché questa è la situazione di chi si trova in compagnia di un dormiente anzi si è più abbandonati di quanto ci si renda conto mio zio respirava pesantemente e le sue profonde aspirazioni e ispirazioni erano accompagnate dal rumore di pioggia all'esterno e all'interno da uno snervante gocciolio d'acqua la casa era insopportabilmente umida anche quando non pioveva e durante un temporale come quello sembrava trasformarsi in un pantano osservai le pietre sconnesse delle antiche mura alla luce dei funghi e ai deboli raggi dei lampioni che piovevano dalla strada e improvvisamente quando l'atmosfera inquietante del posto stava per sopraffarmi aprì la porta che dava sulla strada e guardai nell'una e nell'altra direzione riposando gli occhi alla vista di cose familiari e inalando qualche boccata di aria buona ma ancora non succedeva niente e avevo la sensazione che la mia veglia fosse del tutto inutile sbadigliai ripetutamente perché la fatica stava avendola meglio sull'apprensione poi l'agitarsi di mio zio nel sonno attrasse la mia attenzione si era girato e rigirato parecchie volte nell'ultima mezz'ora ma ora respirava con notevole irregolarità e ogni tanto faceva un sospiro che sembrava piuttosto un rantolo strozzato puntai il raggio della torcia elettrica su di lui e vidi che aveva la testa arrovesciata così mi precipitai accanto al lettino e accesi di nuovo la torcia per vedere se soffrisse quello che scoprì mi angosciò in modo sorprendente perché in fondo si trattava di una piccola cosa la colpa doveva essere del luogo in cui ci trovavamo e della nostra missione dato che la circostanza in sé non aveva niente di spaventoso e naturale ma l'espressione di mio zio probabilmente turbata dagli strani sogni che la nostra situazione favoriva era quella di un uomo agitato che non era per niente tipica di lui di solito il zio Whipler aveva un aspetto di gentile e coltivato urbanità mentre ora sembrava in preda a un conflitto di emozioni penso che fosse proprio la varietà dei sentimenti che provava a lasciarmi perplesso la zio ansimava e si agitava sempre più turbato alla fine spalancò gli occhi e nel complesso non sembrava un sol uomo ma molti per cui dava una curiosa impressione di alienazione da sé improvvisamente cominciò a borbottare e a me non piacquero affatto la piega che prendeva la sua bocca e il luccichio dai denti mentre parlava in un primo momento le parole furono indistinguibili ma poi con un sobbalzo violento riconobbi la lingua in cui si esprimeva e provai un brivido di terrore assoluto in che non ricordai che lo zio era una persona di grande cultura e che aveva fatto lunghe traduzioni di articoli antropologici e storici dal revy de du monde il vecchio elio whipple stava parlando in francese e le poche parole che capì sembravano collegate ai miti più oscuri di cui aveva letto nel celebre periodico parigino un tratto la fronte gli si coprì di sudore e fece un balzo mezzo sveglio l'impasto di francese si tramutò in un urlo in inglese con una voce rauca gridò il fiato il fiato poi il risveglio fu completo e mentre l'espressione della faccia tornava allo stato normale lo zio mi prese la mano e cominciò a raccontare un sogno il cui significato profondo potei solo intuire con terrore disse che gli era sembrato di passare attraverso una normale sequenza di sogni fino a che si era presentata una scena la cui stranezza era tale da non ricordargli nulla che avesse mai letto da una parte sembrava appartenere a questo mondo dall'altra ne sfuggiva una geometrica confusione d'ombre che si combinavano in modo assolutamente poco familiare e preoccupante si aveva la sensazione di vedere molte immagini contemporaneamente le une sovrapposte alle altre e modelli dove le basilari certezze del tempo e dello spazio sembravano dissolversi e mescolarsi nel modo più logico in questo vortice kaleidoscopico di visioni fantasma si infiltravano ogni tanto delle istantanee ammesso che ci posso usare questo termine di singolare chiarezza ma di indefinibile eterogeneità una volta mio zio aveva avuto la sensazione di giacere in una buca aperta e scavata rossamente da cui una folla di facce irate lo guardava con malanimo facce di gente che portava i boccoli e i cappelli a tre punte poi gli era sembrato di trovarsi all'interno di una casa a quanto pareva molto vecchia ma i particolari fisici e persino i suoi frequentatori cambiavano continuamente non si poteva essere sicuri delle facce della mobilia né dell'ambiente in se stesso perché porte e finestre si trovavano in uno stato di continua fluidità e mutavano come gli oggetti mobili era strano diabolicamente strano e quando affermò che alcune di quelle facce avevano i lineamenti degli Harris mio zio abbassò la voce in una sorta di timore reverenziale come se si aspettasse di non essere creduto nel frattempo continuava ad avere la sensazione di soffocamento come se un misterioso occupante si fosse impadronito del suo corpo e cercasse di far sue le funzioni vitali che gli appartenevano tremai perché si trattava di funzioni logorate da tantun anni di attività continua e che dovevano porsi a forze sconosciute di cui anche l'organismo più giovane e forte avrebbe avuto giustamente paura un attimo dopo tuttavia mi dissi che i sogni sono solo sogni e che le visioni dello zio erano alla peggio il suo modo di reagire alle aspettative connesse alle nostre indagini e che da qualche tempo ci tenevamo occupata la mente con l'esclusione di tutti gli altri pensieri la conversazione contribuì a dissipare il mio senso di straneazione a poco a poco cedetti agli sbadigli e mi concessi anch'io un turno di riposo ora lo zio sembrava più che mai sveglio e fu lieto di affrontare il suo turno di guardia anche se l'incubo lo aveva tirato giù dal letto molto prima del previsto mi addormentai velocemente e fui perseguitato a mia volta da sogni della più inquietante natura le mie visioni ispiravano un senso di cosmica e abissale solitudine mentre la prigione in cui ero confinato lasciava filtrare un senso di schiacciante ostilità mi pareva di essere legato e in catene e da lontano mi giungevano le urla di una moltitudine assetata del mio sangue apparve la faccia di mio zio ma a differenza che nelle ore di veglia non suscitava in me alcun sentimento piacevole anzi ricordo di aver tentato di urlare e di essermi dibattuto per liberarmi e nel complesso non fu affatto un sonno gradevole l'urlo che squarciò i miei sogni e che mi scaraventò di colpo nella cruda realtà fu quasi il benvenuto ora che avevo riaperto gli occhi vedevo ogni oggetto e ogni cosa con più chiarezza che mai mi ero addormentato con la schiena rivolta alla sedia dello zio sicché le prime cose che vidi furono la porta che dava sulla strada la finestra settentrionale e il muro pavimento e soffitto dell'angolo nord tutto fotografato dal mio cervello in una luce più brillante di quella diffusa dai funghi o dai lampioni stradali non era una luce forte nemmeno cruda e certo non avrebbe permesso di leggere un libro ma proiettava sul pavimento la mia ombra e quella del lettino e aveva una qualità giallastra e penetrante che faceva pensare a qualcosa di più potente della pura e semplice luminosità me ne resi conto con assoluta chiarezza nonostante il fatto che due dei miei sensi avessero subito un attacco simultaneo alle mie orecchie risuonava l'eco dell'urlo agghiacciante e le mie narici si erano riempite di un puzzo disgustoso che riempiva l'ambiente la mia mente allerta come i sensi capì che la situazione era peggiorata in modo straordinario quasi senza rendermene conto balzai in piedi e mi preparai a usare uno degli strumenti di distruzione che avevamo sistemato sulla chiazza ammuffita davanti al camino mi girai temendo quello che avrai visto l'urlo era quello di mio zio e non sapevo da quale minaccia avrei dovuto difendere lui e me ma ciò che vedi era peggio di quello che avevo immaginato ci sono orrori supremi e io mi trovavo di fronte a uno di quei grumi d'incubo assoluto che il cosmo riserva una minoranza di infelici dannati alla terra disseminata di funghi filtrava un vapore cadaverico un colore giallastro e malato che si innalzava in complesse volute fino al soffitto e che assumeva sembianze in parte umane e in parte mostruose attraverso le quali vedevo perfettamente la cappa e il camino più oltre era tutto occhi crudele e beffardo come una belva e la testa rugosa che ricordava quella di un insetto si dissolveva in cima a un sottile filamento di nebbia che dopo essersi ripiegato orrendamente scomparve su per il camino ho detto che vidi quell'essere ma è solo con uno sforzo di memoria che posso ricostruire il suo esecrabile tentativo di prender forma al momento non fu per me che una nube fosforescente una cosa che filtrava dalla disgustosa putredine dei funghi avviluppando e poi lasciando con orrenda plasticità l'essere su cui era concentrata la mia attenzione alludo a mio zio il venerabile elio huiple che rideva sguaiatamente e si inghiozzava scuro in volto con i lineamenti che sembravano disfarsi e a un tratto allungò le mani adunche per attirarmi nell'alone di violenza suscitato dall'orrore solo l'attaccamento a una precisa routine di gesti e di pensieri mi impedì di impazzire perché a lungo mi ero preparato al momento cruciale e quel banale addestramento mi salvò ormai sapevo che l'essere malefico non possedeva una vera e propria sostanza materiale e quindi non poteva essere aggredito dai mezzi chimici ignorai il lanciafiamme alla mia sinistra e diedi corrente all'apparecchio di crux dirigendo un fascio delle più potenti radiazioni che l'uomo sia in grado di concentrare verso la scena della blasfemia ci fu un lampo azzurro e uno sfrigolio orribile poi la nebbia giallastra si attenuò davanti ai miei occhi mi resi conto tuttavia che il bagliore era impallidito solo per contrasto e che le onde emesse dal tubo non avevano alcun effetto nel mezzo nel mezzo di quello spettacolo infernale avvenne qualcosa di così orrendo che mi spinse a fuggire urlando e senza sapere dove mettevo i piedi verso la porta che dava sulla strada incurante delle forze distruttive che avrei potuto scatenare sul mondo o dai pensieri e giudizi degli uomini nei miei confronti nella vaga mescolanza di alone giallo e azzurro la figura di mio zio aveva cominciato a liquefarsi in un modo che sfida ogni possibilità di descrizione tuttavia nello scomparire il volto riflette una serie di cambiamenti di identità degna della più assurda follia era contemporaneamente un demone e una moltitudine un cimitero popolato di cadaveri e un corteo trionfale illuminato dai raggi misti e incerti il volto molle assunse dieci venti cento aspetti diversi e quando affondò nella pozza del corpo che si scioglieva per terra come cera esprimeva in un ghigno sorta di beffarda caricatura le sembianze di gruppi eterogenei ma non del tutto estranei riconobbi i tratti della famiglia Harris maschi e femmine adulti e bambini e i lineamenti rozzi o raffinati di persone di varie età familiari e sconosciute per un secondo mi sembrò di riconoscere la copia degradata del volto della povera e pazza Robbie Harris che avevo visto in una miniatura al museo della scuola di disegno un attimo dopo riconobbi il volto sussuto di Mercy Dexter che avevo visto in un ritratto a casa di Carrington Harris ed era spaventoso al di là di ogni descrizione verso la fine quando un curioso miscuglio di volti servili e di bambini prese forma in mezzo alla macchia di grasso verdastro che si andava allargando sul pavimento ebbe l'impressione che le mille facce lottassero una contro l'altra e cercassero di formare l'immagine gentile di mio zio in una sorta di estremo saluto mi sembra che a mia volta gli disse uno strozzato arrivederci ma ormai ero già sulla strada e un rivolo sottile di materia decomposta mi seguì sul marciapiede inzuppato di pioggia il resto è buio e terrore nella strada bagnata non c'era nessuno e a nessuno al mondo avrei osato rivelare quello che era accaduto e incamminai senza meta verso sud alle pendici di college hill e oltre l'ateneum poi invocai hopkins street e attraversai il ponte entrando nel quartiere degli affari dove gli alti edifici sembravano proteggermi come tutto ciò che è moderno e materiale protegge il mondo dai sortilesi e dai pericoli dell'antichità l'alba spuntò grigia a oriente disegnando il contorno delle arcaiche colline e dei campanili e attirandomi misteriosamente verso la casa dove il mio lavoro non era ancora finito alla fine inzuppato e senza cappello mi diressi al colmo della confusione verso la terribile porta di benefit street che avevo lasciato socchiusa e che ancora sbatteva in piena vista dei vicini ai quali non osavo rivolgere la parola la putredine era scomparsa perché il terreno ammuffito era poroso davanti al cammino non c'era più traccia della gigantesca forma umana ripiegata che la muffa e l'umidità avevano disegnato fino a quel momento guardai il lettino le sedie gli strumenti il cappello che avevo dimenticato e la paglietta dello zio ero soprattutto confuso e non riuscivo a stabilire quale fosse il sogno e quale la realtà poi riuscii a pensare con maggior chiarezza e mi resi conto di aver vissuto un'esperienza più orribile di qualunque incubo seduto cercai di immaginare quel che era accaduto senza compromettere la mia sanità di mente e di decidere quel che potevo fare per mettere fine all'orrore ammesso che fosse reale non mi era sembrato di materie né di etere né di qualunque altra sostanza concepibile dall'uomo dunque si trattava di un'emanazione estranea un vapore vampiresco simile a quello che i contadini di Exeter sostengono librarsi su certi camposanti sì era questa la chiave e di nuovo guardai il pavimento davanti al camino dove muffa e depositi di umidità avevano preso forme così grottesche in dieci minuti avevo deciso e raccolsi il cappello andai a casa feci un bagno mangiai più tardi ordinai per telefono un badile un'ascia una maschera antigas militare e sei contenitori di acido solforico doveva essere tutto consegnato la mattina dopo alla casa di benefit street davanti alla porta della cantina fatto questo cercai di dormire e siccome non ci riuscivo ingannai l'attesa leggendo e componendo inutili versi per combattere il mio stato verso le undici del mattino seguente cominciai a scavare c'era il sole ed ero contento ma ero ancora solo perché sebbene avessi paura della cosa spaventosa che stavo cercando non avevo il coraggio di parlarne con nessuno in seguito accennai qualcosa ad Harris per pura necessità e perché i racconti bizzarri che aveva sentito dai vecchi lo disponevano per quanto poco alla credulità mentre spalavo la terra maleodorante davanti al camino e il badile tranciava i funghi facendo scorrere un icore dall'ognolo il pensiero di quello che avrei potuto scoprire mi dia dei brividi ci sono segreti del profondo della terra che non fanno bene all'umanità e questo mi sembrava uno di essi la mia mano tremava visibilmente ma ancora scavavo e dopo un po' riuscii a stare in piedi nella grande buca che avevo fatto man mano che la fossa diventava più profonda la lunghezza era di circa due metri il cattivo odore aumentava e non ebbi più alcun dubbio che tra poco sarei entrato in contatto con la cosa infernale le cui emanazioni avevano infestato la casa per un secolo e mezzo mi chiesi a che cosa avrebbe somigliato quali fossero la sua forma e sostanza e quanto grande l'avessero resa ai lunghi anni in cui aveva succhiato la vita altrui dopo un pezzo salì in cima alla buca livellai la terra che avevo spalato e sistemai due grossi contenitori di acido sui lati in modo che al momento opportuno avrai potuto rovesciarli in rapida successione poi spalai la terra sugli altri due lati lavorando con calma e indossando la maschera antigas quando il puzzo si fece insopportabile ero snervato dal pensiero di trovarmi a pochi centimetri dall'orrore sconosciuto che si trovava in fondo alla fossa all'improvviso il badire colpì qualcosa di più morbido della terra rabbrividì e fui tentato di uscire dalla buca nella quale ero immerso ormai fino al collo poi mi tornò il coraggio e alla luce della torcia elettrica spalai altro terreno la superficie che misi a nudo era scivolosa come la pelle di un pesce semivitrea una sorta di gelatina in parte imputridita e pressoché opaca continuai a scavare e vidi che aveva una forma ben definita e che la materia era ripiegata intorno a una specie di fessura la parte esposta era grande più o meno cilindrica come un'immensa canna fumaria da stufa di color bianco-azzurro piegata a gomito e larga settanta centimetri nella parte più ampia continuai a scavare finché tutto a un tratto balzai fuori dalla fossa e cercai di allontanarmi dalla cosa spaventosa senza perdere tempo rovesciai i due contenitori di acido solforico e il liquido corrosivo precipitò nella buca sepolcrale sull'inimmaginabile mostruosità di cui avevo visto il gomito non dimenticherò mai il vortice accecante di vapori giallo-verdastri che uscirono dalla fossa mentre l'acido precipitava la popolazione della collina ricorda quel giorno come il giorno giallo perché orribili e virulenti fumoni si sprigionarono dagli scarichi delle fabbriche nel Providence River ma io so che la provenienza dei vapori era un'altra si racconta inoltre che un orrendo boato si levò da una condotta d'acqua difettosa oppure dal gasdotto ma ancora una volta avrai potuto raccontare la verità se ne avessi avuto il coraggio un'esperienza assolutamente terrorizzante e quasi non mi rendo conto di come ne sia uscito vivo dopo aver versato anche il quarto contenitore d'acido svenni avevo dovuto maneggiarlo da solo e i vapori cominciarono a infiltrarsi nella maschera antigas quando mi ripresi vidi che dalla fossa non uscivano più miasmi votai i due contenitori che restavano senza particolari risultati e dopo qualche tempo cominciai a riempire la fossa con la terra che avevo ammucchiato finii verso il crepuscolo ma ormai il terrore aveva abbandonato la vecchia casa l'umidità non aveva il fetore di prima e gli strani funghi si erano essicati riducendosi a una sorta di polverina grigia che somigliava a cenere uno degli orrori profondi della terra era perito per sempre e ammesso che ci sia un inferno deve finalmente aver ricevuto l'anima maledetta di quell'essere livellando l'ultima palata di terra piansi la prima delle molte lacrime che ho versato alla memoria del mio caro zio la primavera successiva il giardino della casa sfuggita non presentava più tracce di erba pallida e vegetazione abnorme poco dopo carrington harris la affittò è ancora un posto che mette i brividi ma la sua stranezza mi affascina e al mio sollievo si mescola una strana tristezza quando penso al giorno in cui verrà abbattuta per far posto a un chiassoso negozio o a un volgare condominio i vecchi alberi spogli nelle corte hanno cominciato a dare piccole dolci mele e l'anno scorso e l'anno scorso Grazie a tutti.